Nella prossima primavera si voterà per la rielezione del Consiglio Comunale e del Sindaco. Il Sindaco Stefano, avendo già ricoperto due mandati consecutivi, non potrà ricandidarsi e quindi si dovrà individuare una nuova figura, una nuova identità di Sindaco. A prescindere dai colori politici, dagli schieramenti e dalle casacche, anche perché credo che a livello locale non ci sia quella coloritura che invece a livello governativo può esserci. Qui non stiamo parlando di unioni civili o non stiamo parlando di aborto, non stiamo parlando di altri macrotemi. Parliamo di ambiente, di occupazione, di vivibilità, dei problemi che il cittadino ogni giorno vive. Ecco, quali dovrebbero essere queste caratteristiche del Sindaco? Ci delinei il suo Sindaco ideale, proprio alla luce della situazione che vive Taranto? Il mio Sindaco ideale deve essere innanzitutto uno che vuole bene alla città, che quando trova una situazione come questa si deve rimboccare le maniche. Papa Francesco ha detto che noi siamo un ospedale da campo, deve essere uno che interviene, cioè che lo fa come vocazione proprio, uno che si dedica al bene della città, vuole il bene della città e che abbia, prima cosa, seconda cosa, capacità di ascoltare la gente, di ascoltare le domande che le varie categorie gli rivolgono e poi capacità di proporre, propositiva, di mediare le varie esigenze, perché ci sono esigenze contrapposte, chi tira da un lato, chi tira dall'altro. Io aggiungo anche un sano decisionismo, ma nel senso forse l'espressione decisionismo con questo ismo, con questo suffisso può essere fuorviante, ma intendo un Sindaco deciso a portare avanti le battaglie per Taranto. Certamente, una capacità di decisione, di intervenire, la maggioranza è maggioranza, l'opposizione è l'opposizione, se si prevede un piano, si fa un piano, si fa quel piano lì. E poi una caratteristica su tutte le altre, che è proprio quella della moralità, cioè una moralità integerima. Però questa qui deve essere messa a servizio della soluzione dei problemi, non semplicemente dell'analisi, perché di analisi ce ne sono tante, della soluzione di cominciare a rischiare.